Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Anche il Vaticano deve pagare, non solo noi. Sul versante della crescita non presenti interventi risolutivi. Ormai tutti gli osservatori italiani ed internazionali non c'è manovra di risanamento dei conti pubblici che tenga. Noi fra tre mesi avremo magnificato gli effetti di questa manovra e dovremo fare un'altra manovra ancora risanata.